Salve a tutti ragazzi, siamo di nuovo qui su FIFA Ultimate Team, da quello che vedete. Oggi speriamo che siamo più fortunati di ieri sera perché abbiamo spacchettato e non abbiamo trovato neanche un bico secco. Speriamo stasera di trovare qualche toti magari, chissà, la dea bendata si tolga la benda almeno per questa sera. Ragazzi sono presenti ancora i pacchetti oro premium maxi che per quello che mi riguarda ne ho aperto almeno una vendina anche dopo aver terminato il video, sì, e non ho trovato una jepa ragazzi, speriamo. Ci sono i pacchetti promo oggi, proviamo ad aprirli, 4 pacchetti mega, uno l'ho aperto prima in realtà e due pacchetti giocatori oro rari. Ah, vediamo il primo pacchetto ragazzi. Comunque sono contentissimo, mi hanno fatto un bellissimo regalo. Ecco Come al solito non abbiamo trovato un gaso ragazzi Una paletto ragazzi, non so che cosa ci dobbiamo fare. Comunque ha più trovato Vidic, Grissman, ma io voglio i giocatori Sì, ormai... Vabbè, lo lasciamo stare. Vidic, Grissman non sono male Io vedo che escono, no, escono tutti a destra e a sinistra ragazzi, non so come fanno. Sì, comunque Le dobbiamo eliminare Non va niente, abbiamo eliminato paletto, sì La pala... Ah, ne apriamo Uno da 1000 FIFA Points Ricordatevi, non prendete i FIFA Points perché a me li hanno regalati Ho avuto un colpo di fortuna Come al solito No, abbiamo trovato un gaso Eh, io lo sapevo perché in questi pacchetti è uno schifo totale Ah, andiamo con questi... Con il pacchetto mega, vediamo Ragazzi, ma è... Marchissimo Impossibile Marchissimo Ebra Grissman Non me ne faccio nulla Ah, andando noi li conserviamo nello scatolone dei trasferimenti E chissà con William faremo qualche credito Bombapastor top plus socrates, ovvero E non ci facciamo nulla Ah, speriamo Che la Dea bendata si sia totta veramente la pende Sì, ma va affangito Proprio schifo questi pacchetti Non so come fanno gli altri a prendere Ragazzi, ultimo da 50.000 crediti, no? Direi di aprire un po' di pacchetti Ora prendi un maxi con Messi dentro, chissà Magari Niente da fare, ragazzi Come avete visto, Messi non si trova Eh, neanche un doti Prossimo pacchetto, vediamo Ok No Diabate, ma è impossibile No, è impossibile Apriamo l'ultimo pacchetto, speriamo Io mi nascondo, vediamo Cioè, rendetevi conto, amici miei Abbiamo trovato il nome Davidic, questa è una fregatura totale Nel video precedente avevo scritto Eh, se l'e-spot continuo a mandarmi Sì, andando le dobbiamo scaricare Ah, proviamo ad aprire due di queste Chissà, in questo pacchetto c'è qualcuno E vado in canna da... Eh, vabbè Vanno totalmente schifo Io lo sapevo Eh, però ho intenzione di aprirne un bot con i... Eh, quelli da 15.000 Speriamo Eh, ma possibili che... Eh, l'altri no Eh, non so come fanno Sì, vabbè Inutile che mi presenti per era Eh, non faccio niente Ragazzi, quando c'è Howard nei pacchetti Dovete cambiare Perché sennò Eh Secondo me troveremo il pacco natale Sì, il pacco opening natale Quei bei tempi sono passati Mi sa che troveremo l'uovo di Pasqua Eh, della farcia Eh, sì Speriamo che vada bene Incrociamo le dita Di... Ragazzi, di nuovo Air 2 Porn Come vedete Nel video Di nuovo Totti Non ho capito il senso Però Mi sa che Howard Secondo me Porta fortuna Sì, vabbè Subditch Ma che me ne faccio Di Subditch Dando tutti i doppioni Come vedete Gli oggetti Eh Neanche il più fortunato Riuscirebbe a trovare qualcosa Ma possibile È possibile che mettete di nuovo Subditch Dovete morire È impossibile Questa è una fregatura Soltando Secondo me Ma vaffanjina Possiamo Vediamo il prossimo pacchetto Abbiamo trovato Snyder Ragazzi Non è male Abbiamo trovato altre Pippe Cannoni E sigarette varie E di Hop Ariane Sono Pippe Quindi ragazzi Andiamo avanti Perché Proviamo con Howard Chissà Ah Un IF Non male Ragazzi Rulli Di tamburo Ole IF È Scasso Però Un Z and dot Con quello Conserviamo Magari Eh La costoletta Costile Tu re Non va bene No È inutile Sono sfortunato Mi sa che devo terminare Il pack opening Sì Josué Giuseppe Di Sanda Eh sì Di Sanda Vabbè Elm Il divino Jonathan Ovviamente Non troviamo Un gazzo Sì Tu scrivi Il pacchetto Oro premium Giocatori maxi Sì Quello che vuoi Normale Ecc Di nuovo Subotic Impossibile Ecco ragazzi Eh Di nuovo Subotic Ah Questo Questo stronzo Mi sta Sulla male Sì Sì È uscito Già Tre o Quattro Oltre Fate Quando Voi Non ne posso Più Ma vattene A quel paese Proviamo Con questi Tre Cambioni Messi A Sardi I guai A scalare A scalare In pratica Sì Vabbè Sì 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 Zero Non me ne faccio Niente Perché Li ho già Ma Non li uso Adesso Trovo Amazard Messi Capovorte Chissà È un Zegno No Ma sono Sfortunato Ovviamente Faccio I Pack Opening Non Trovo Niente Alvaro Negredo Cari miei Pro Abbiamo Trotto Qualche Giocatore Buono Sì I Richiesti Tottenham Dino Wilshire Ovviamente Ne credo Lavelo Già Ah 2000 Accrediti Lì Esporto Ogni tanto Ci pezzo Eh Certo Sto a prendere I pacchetti A A Valan Sì Ragazzi Santa Cruz 800 Mila Giusti Giusti No Sì Neymar 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 Abbiamo trovato Neymar Amici Neymar A me Come giocatore Piace Finalmente È un Golfo Di Fortuna Anche se Non è un Dote Abbiamo trovato Neymar Bella Neymar Neymar Anche Sì Una carta Celeste Ci farebbe Comodo 90 velocità 92 Dribbling Clip Clip Max S Sì Le bacche Ragazzi Ricordatevi Le bacche Nel gioco Dei pokemon Inoltre Vi ricordo Che Da un po' Di tempo Sono usciti I nuovi Pokemon I nuovi giochi Continuiamo Ad aprire Se no Magari A 15 Minuti Stacco Chissà Troviamo Messi CR7 Anche Va bene Vi ho trovato Jack Sì Ma al momento Lo rendono A poco Jack Intanto Eliminiamo Questi Scassoni Della lista D'esperimenti Io voglio Solamente Dagli Ottanti In più Overall Ragazzi Vi annuncio Ultimo Sì Perin Biglia Della Lazio Keita Della Roma Oltretutto Keita Gervini Ma vai avanti Dai E Keita Gervini Sono in Coppa D'Africa Ma noi Non ce ne frega Niente No Questi Lo mettiamo Ultima Varchetta E poi Faremo Un altro Un po' Di spacchettamento Vediamo Chissà Un nero Ci esce Ma no Dietro Andavie Il grande Antonio No ragazzi Scusatemi Un epic Fail Fail Fallo di mano Come dice Antonio Conde E' agghiacciante Aghiacciante E non capisco una cosa Conde sta allenando l'Italia Giusto? E perché nella Liga Non mi risulta che sia per il St. Germain E come al solito Ribadisco che l'Esports non ci capisce niente Comunque Mandiamo tutto Isakson No Ci tocca Questi due Li teniamo Su Sarei Tagliamo Sai Un gambiongino Divendato Questi Purtroppo Li scartiamo Ultima Archetta E poi Vada Nanna Dai Totti Nero No Li F Sono neri Mentre i Totti Sono ciolesti Sì Va bene Suba Si Ottimo Portiere No ragazzi Non ci siamo Abbiamo trovato Dost La Batteria Ultra Chamberlain Enrico Ehi Enrico Vieni qua E no E i piatti Li abbiamo Spaccati Abbiamo fatto Lo spacchettamento Capodanno L'ultimo Giuro Speriamo Che Vabbè Si Sata Oggi La De Bendata Si è messa Gli occhiali Da sole Vorrei sapere Che cosa Me ne devo fare Che cosa Me ne devo fare Di Bradley Non ho capito Detto Rondo FC Oltretutto Squadra Che Io Non apro No Non Non c'è gioco Ovviamente Dai Dai Guzman Si Ah ragazzi Facciamolo Una volta Per tutte Questi giocatori Sotto Di 80 Li Li Togliamo Si Vabbè Li Debelliamo Eh si Buffon Vabbè Il sax Non ci serve A niente Mandiamo Tutta Il club Arriviamo A 700 Mila E non Ce ne frega Più niente Castanne Magari Se non mi sbaglio L'anno scorso Su FIFA 14 Ultimate Team Ero uscito Nella squadra Dell'anno Si Se non mi sbaglio L'avevo preso Anche io Su 14 Spiegami tu Il senso Di questo Giocatore Non ho capito Li esports Eh Ehm Ehm A voi Adriano Ovviamente Adriano Doppione Che abbiamo trovato Il pezzetto Ragazzi Abbiamo trovato Il pezzetto Nulla Nulla Ragazzi Non troviamo Niente Siamo a 20 minuti Ehm 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 Runei qualcosa E' buona Vi ho trovato Runei Ragazzi Vi saluto Questo Questo Era il mio Ultimo Pacchetto Alla prossima Da Jimmy J Frango 93 Tutto Speriamo Di essere Più Fortunati Ehm Scusate Se abbiamo Perso Tempo Ciao Ragazzi Speriamo 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 Speriamo